Io penso che l'inchiesta che è scoppiata in Liguria ha una serie di motivazioni che stanno anche nella incapacità della nostra legislazione di chiarire alcune cose e cioè quando un contributo elettorale che è legittimo viene versato da chi ha una concessione e il contributo viene versato a chi la concessione la dà siamo di fronte sicuramente a un atto legittimo sicuramente non siamo di fronte a una normalità di rapporti tra politica e impresa e questo va corretto, noi abbiamo chiesto a tutti i partiti con una nostra proposta di legge di correggere questo noi come azione ha scelto di non richiedere mai, di non incassare mai cioè il punto è che non è reato però politicamente non va bene quindi bisogna intervenire politicamente Mi sembra abbastanza evidente che quando uno dà un'autorizzazione e chi riceve l'autorizzazione dà un contributo ci può mettere in pista un atteggiamento che evidentemente è di parte e infatti si è aperto un'inchiesta su questo poi non starà a Totti dimostrare la sua innocenza starà nella magistratura inquirente dimostrare la sua colpevolezza almeno per l'ordinamento italiano dopodiché io credo che non si possa governare una regione stando ai domiciliari quindi Totti dovrà decidere cosa fare la Liguria sicuramente ha bisogno di un governo Allora intanto abbiamo capito chiedere aiuto ai giornalisti che sono qui in studio con me Il centrodestra dovrà scegliere cosa fare Abbiamo capito